Ben trovati, oggi rifletteremo sul senso della festa della presentazione della Beata Vergine Maria, perché molti di voi diranno, ma a che serve questa festa? Che cosa significa la presentazione di Maria al Tempio? Che senso ha? Intanto è una festa orientale, molto sentita all'Oriente, che è già celebrata nel VI secolo d.C. e poi poco a poco viene portata anche in Occidente. Qual è il senso un po' di questa festa? Se ci pensiamo bene, la presentazione di Maria doveva essere sicuramente non una cosa gloriosa, una cosa modesta di una famiglia molto normale, molto modesta di Israele. Però ricordiamoci bene che Maria si prepara a ricevere il figlio di Dio. Ed è questa la cosa importante, come lei si prepara ad accogliere questo figlio in tutta la sua vita, non solo con l'annunciazione di Gabriele, ma proprio come tutta la vita della Vergine Maria è previsto per questo. A un certo momento Gesù dirà, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la ascoltano, la osservano, ed è quello che farà Maria subito. Ricordatevi quando dopo l'annunciazione lei, dice la scrittura, la scrittura, conserverà tutto questo nel suo cuore. Anche noi siamo chiamati a questo. La presentazione di Maria a Tempio ci fa riflettere non tanto su questa presentazione, ma il fatto che Maria in un certo senso entra nel Tempio, viene presentata a Dio. Così ciascuno di noi siamo chiamati a presentarci al Signore per metterci al suo servizio. Questa è la cosa essenziale. Maria custodiva le parole per meditarle e per viverle. È la prima discepola del Signore. Anche noi siamo chiamati a questo, custodire le sue parole per viverle. Grazie a tutti.